Noi vediamo Giovanni, ora vediamo se lo vedete, a vostra guarda, noi presentiamo il primo telemosto dell'Italia, e ora siamo in diretta, oggi la trasmissione si chiama i misteri della voce, stiamo parlando del fenomeno della cinema di Federico Fellini, io mi chiamo Maria Matrieva, sono cantante lirica, tele-radio rappresentatrice, e questo è Giovanni Schievano, compositore, compositore del cinema, che oggi si trova, raccontaci dove ti trovi Giovanni, sei ad un festival? Sì, sono a Palermo, al Sole Luna Film Festival, perché sono in giuria per premiare la migliore colonna sonora di questi film internazionali, sono dei documentari internazionali. Io vorrei dire, ovvero, per noi, rossi, che Giovanni Schievano è un musicale prodigio, un pubblico, un pubblico, un pubblico, un pubblico, in caso, sta in piedi Palermo, e è un pubblico del film del cinema, che è stato spiegato, il pubblico del film, che si chiama il sole Luna. Ну что же, буду задавать вопросы, отвечать, переводить, вот как-то так, попробуем. Если кому-то из наших телезрителей, кто-то хочет использовать эту возможность напрямую пообщаться с Giovanni, пишите в наш чат, пишите вопросы. Почему? film di Federico Fellini o magari è più di un film, quale film è il tuo preferito? Beh, allora dire film preferito è difficile con Fellini perché ne ha fatto tanti capolavori, se proprio devo sceglierne uno, scelgo Amar Cord Ho parlato prima di questo film, è un film dedicato all'infanzia all'Italia dopo guerra meravigliosa, abbiamo guardato questo momento di ricordi della nave quando la gente del paese esceva a guardare questa bellissima nave grande e saluta che emozioni, diciamo che ha trasmesso il genio di Fellini, ovviamente Io spiegала a Giovanni, quali film lui preferisce, probabilmente несколько film sono его любимati del film di Federico Fellini e per favore Giovanni una domanda a riguardo visto che tu sei musicista e parliamo sempre delle colonne sonore che a te piace il rapporto tra la storia e la musica l'altra volta c'era il discorso della creazione di Sergio Leone e dei Nio Moricone che erano amici collaboratori che avevano 50 e 50 tra la musica e la trama qual è la tua idea di questo cioè com'è per te questo rapporto la musica la storia che ne dici? Allora diciamo che il rapporto tra musica storia è fondamentale ma è tanto più fondamentale anche il rapporto che c'è tra il compositore e il regista quando è nato questo idilio tra Nino Rotta appunto e Fellini si è creato io la chiamo alchimia nel senso che loro quando componevano che componevano addirittura assieme si creava quella cosa che andava oltre al chiedere un certo tipo di musica cioè il compositore riusciva a entrare perfettamente nello spirito di quello che vogliavano assolutamente sono d'accordo con te io ho messo Giovanni io, ovviamente io, ovviamente per la visione per la visione che ho parlato che ho ascoltato la nostra programma Enio Morricone che ho parlato che la musica la creazione di musica perché Giovanni è un musicista come la musica la creazione di musica e la scenarie cioè la creazione la creazione di musica e la creazione di musica e la creazione che la creazione di musica Enio Morricone questo duet è un rapporto di due grandi artisti di due figure di una sensibilità altissima di una percezione del mondo diciamo come una magia infatti tu sai che Federico Fellini credeva tanto nelle magie esoteriche che cercava di percepire di percepire la realtà e so che anche tu ti conosco so che questo tema ti è molto vicino raccontami di questo rapporto tra la percezione del mondo diciamo magari esoterica oppure un misticismo nella musica che cosa è per te per me è una cosa starei per dire la parola vitale nel senso che è fondamentale perché nella nella musica in questo modo legato all'immagine fai vedere e ascoltare ciò che l'immagine non ti fa vedere come diceva anche Morricone lo diceva quando la musica la colonna sonora è proprio non quello che vedi ma quello che non vedi quindi la parte inconscia la parte altra che noi non riusciamo a vedere e quindi la parte esoterica anche la puoi far vedere con la musica attraverso però una sensibilità che devi avere non è solo una questione tecnica bella questa risposta che la parte esoterica la fai vedere con la musica cioè quello che non hai detto con la storia tu lo fai vedere con la musica ovviamente sì traducco per i nostri ascoltatori я задала такой вопрос интересный мы к этой теме еще с вами подойдем я расскажу про ту часть Federico Fellini которая связана с магией он очень увлекался эзотерикой как я уже говорила и пытался понять вот суть нашей реальности обращался даже гаданием и был знаком со знаменитыми парапсихологами своего времени и это отражено в его фильмах особенно в последних картинах и поскольку Джованни тоже увлекается можно сказать что мистицизм тоже для него не чужд я задала вопрос какое отношение между музыкой и мистическим восприятием реальности на что Джованни ответил что это очень важный момент что это фундаментальный фундаментальный момент потому что то что рассказывает история это одна часть в кинематографе а то что мы дополняем конкретно через музыку вот именно с какими-то дополнениями мистического того же эзотерического характера пусть они будут возможно какой-то неоткровенной формы не знаю если я сейчас понятно объясняю но это именно то что воспринимает зритель на каком-то таком подсознательном уровне отродотто разводит это фильм из Федерико Феллени «Дел Гранде Маэстро 8,5 » мы знаем что этот фильм он изпирался с глубокой депрессионной мировой 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 «У нас гиовани скран исчез» «Сей спарит» «Не ти ведо» «Адесо sei спарит» «Стонам гилет» Tornato, perfetto. Ripeto, quindi ti ricordi che questo momento della depressione profonda, se posso dire, lui ha cercato una certa ispirazione in questo suo stato, si è andato profondamente nel discorso di psicoanalisi di Carl Gustav Jung, ti ricordi? Io conosco, essendo come te musicista, artista, so che il momento della depressione capita a tutti, non solo ad artisti, ma artisti lo vivono proprio pienamente, come tu credi Giovanni per te? Devi stare bene. Invece Filini ha fatto vedere una posizione completamente, cioè rivolto questa cosa. Che ne pensi? Parliamo un po' di questo aspetto. Come è per te? È un aspetto molto importante. Diciamo che la depressione per un artista può avere due aspetti. In quanto depressione, io chiamo apatia, nel senso che è mancanza di pathos. Quindi il problema è che tu non hai più emozione e non capti più l'emozione. Ed è per questo che fai fatica o addirittura non riesci più a creare in quel momento. Però se tu riesci a... Adesso è una questione anche proprio di consapevolezza. Se riesci a guardarti su questa cosa, ti accorgi che non è solo una questione di emozione, allora riesci a vincere questa depressione e a diventare creativo ancora di più. Cioè può succedere che addirittura dalla depressione ti nascano veramente dei capolavori. Certo. Perché tu stai scoprendo la tua nuova forza, giusto? Sì, sì. Esattamente. Sono d'accordo anche qui. Anche qui sono d'accordo con te. Traduzco. Io ho spiegato a Giovanni su filmo 8,5, la più famiglia di lavoro Maestro, in cui questo periodo, il periodo di creazione di questo lavoro, è stato molto semplice per Federico Fellini, perché è stato in una depressione, perché è stato in una depressione, è stato molto importante per tutti gli artisti, perché, perché, infatti, artista spiegliando la depressione come appassionato, come dicevole Giovanni, cioè nel momento, quando ciò non vogliamo fare, perché ciò che ci sono molto, perché ciò ci sono davanti, poi ciò che ci sono davanti. A Federico Fellini appровergli questa teoria, questo положение avessi. Il proprio in sua depresione ha trovato questo istotico per il suo sviluppo. E Giovanni ha detto, che depresione è un'attività come apatia, quando non vogliamo sentire l'attivazione con il nostro emozionale. E quando si chiama il personale, si chiama in глубino i nostri emozioni, si chiama le nostri emozioni, si chiama le nostre emozioni, si chiama le nostre emozioni, si chiama le nostre emozioni. E' un'altra domanda, ti farei una domanda complessa. Come sappiamo, Federico Fellini ha fatto vedere il suo rapporto con la religione. Era molto complesso. Un'astauta preischodiet, i ligni preischodiet, era abbastanza complesso. Sappiamo che per lui la fede era un aspetto molto importante e lui era fedele. Ma il rapporto con la chiesa era molto specifico, se posso dire così. Visto che tu sei italiano, raccontami un po' di come tu vedi questo aspetto. C'è il rapporto, perché io quando preparavo la trasmissione ho trovato, di film che si chiama Roma, il Vatican Fashion Show. Non so se ti ricordi questo momento, questa ironia con cui Fellini fa vedere la moda del Vaticano. Fai i tuoi commenti riguardo a questo, per favore. Diciamo che l'Italia ovviamente abbiamo il Vaticano, chiamiamolo in casa, per cui c'è un aspetto duplice della visione del mondo cattolico. Da una parte c'è quelli che sono, dico veramente, religiosi, nel senso che seguono comunque in maniera canonica quello che è la loro fede legata alla religione cattolica. Invece c'è una parte che la posso chiamare più esibizionista. C'è questo senso ancora del potere temporale della Chiesa. Probabilmente, allora io non sono un critico cinematografico, ne parlo solo così come mia idea, in quel caso lui proprio ha dato questo aspetto della parte un po' voyeristica, insomma glamour dell'aspetto della religione cattolica. Questo credo, ecco. Quindi come ho detto, comunque c'è l'ironia sotto sotto. C'è l'ironia. C'è l'ironia, ti ricordi? Sì, l'ironia. Si, come fanterialismo di Fellini, barocco di Fellini. C'è questo un po' di grotesco anche in questo. Certo. Ну, вопрос был связан с rileghi, поскольку, конечно же, Italia, это же Vatican, как сказал Giovanni, у нас дома находится Vatican, то есть, конечно же, катolическая церковь, это всегда для italianских художников очень важный элемент, важная тематика. И у Fellini был непростой, непростые отношения. Он был человеком глубоко верующим, и в постижении Бога, Бог для него был какой-то такой загадочной, трансцендентной силой. Но вот церковь, я не могу сказать слово осуждал, но он и с иронией относился. И мы потом покажем момент, где вот эта ироничность как раз просказывает. И Giovanni сказал, что, конечно же, в Италии, и, скажем так, имея дома Vatican, есть люди разные, которые по-разному относятся к церкви, в общем-то. Но вот эта ирония, с которой и вот этот гротеск, с которой относился Fellini, он действительно есть. И он очень такой, это такая находка, скажем так. Ну, опять же, это и мировоззрение большого художника. Это то, что отразилось здесь его, конечно же, детство. Мы вернемся сейчас, чтобы Giovanni не задерживать очень долго. Мы вернемся к этому, я еще подробнее расскажу. Я хотел бы folder, но я хотел бы спросить вместо поставки, где ты находишь сейчас. Как говорится, что Fellini, он уменологит, он из-за мира мира, который говорила, вы clearly говорили, его человечество, женщины, с его эмоции, с его проблематиками, в центре. Восемьи проблемы, в то же время, вы, сейчас, в фестивале «соев-на», в том числе, в том числе, в то же время, например, esempio di questo festival di oggigiorno, cosa fate voi? Il tema centrale sono due, uno è sicuramente l'ambiente, nel senso più largo del termine, quindi non solo l'inquinamento, ma proprio tutto quello che sta avvenendo nell'ambiente e poi i grandi spostamenti delle persone, perché tra l'immigrazione, ma non soltanto, ci sono popoli che si stanno spostando, ci sono grandi movimenti e questo genera grandi quesiti, grandi problematiche e questi film più o meno, insomma, si trattano molto di questa cosa qua. Certo, interessante. Lo traduco, io ho spiegato a Giovanni, in 2023, quale è la principale tema? Certo, perché festivali ogni anno cambiano le temanze, i filmi sempre... Cioè, режissere представляvano i filmi sui filmi per determinare temanze, che sono installati, diciamo, a festivali. In questo anno hanno due temi. Una teme è ecologica, ma non solo ecologica, ma anche прирoda, in tutto il mondo, quindi il mondo in tutto. E anche la tema di trasferimento dei nazionali, perché oggi in mondo non solo molto più persone переjezano, cioè molto più persone переjezano, ma anche i trasferimenti e ci sono stati provociano alcune problemi. E, in realtà, filmi, che presentano a questo canale, la domanda semplice ora, ora come in Italia oggigiorno la gioventù guarda i film di Federico Fellini perché tu hai i figli che sono già grandi ma comunque vedi, sai, il mio figlio ha ancora 13 anni perciò è un po' prestino per lui Fellini ma come vedi tu adesso il rapporto tra film di Fellini e la gioventù di oggigiorno? è una bella domanda questa perché coinvolge un po' tutto sulla gioventù secondo me è molto difficile far arrivare più che il messaggio proprio far vedere ai giovani Federico Fellini bisogna che ci sia alla base una piccola educazione al cinema dove poi le persone sono incentivate insomma anche da sole a vedersi questa cosa io proprio sto facendo un lavoro con le scuole molto interessante e vedo che i ragazzi all'inizio sono molto scettici ma poi quando li fai entrare poco a poco diventano entusiasti significa che loro comunque sarebbero molto attenti però il mondo di oggi tende a non far vedere niente certo è questo un bel problema sono d'accordo io ho spostava un'acquitto anche per noi anche per i ragazzi come oggi come oggi italiana ragazzi si aliasa guardano perché il mio figlio è il mio figlio è più 13 anni e'von potremmo potremmo guardano 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 ma 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 è una missione molto bellissima, quella che tu fai alle scuole con i ragazzi e io ti ringrazio di questa intervista, ti ringrazio del tempo che tu ci hai dedicato, io ti auguro un successo nei tuoi nuovi progetti, che sia di musica, quelli del cinema, ci sentiamo, ti saluto, ti ringrazio e ricordo ai nostri ascoltatori, quelli che ci guardano la nostra trasmissione, che oggi c'è stato un bravissimo musicista, mio amico e collaboratore Giovanni Schievano, da Palermo Festival Sole Luna, giusto? Certo, certo, giusto. Tutte le cose giuste, io ringrazio te Maria per la bellissima intervista e ringrazio tutti gli ascoltatori, spero di aver detto qualcosa che sia stato bello, utile. È stato molto interessante, ti ringrazio per il tuo contributo a questa trasmissione, ci sentiamo, ora ti salutiamo e io continuo a parlare. Ciao Giovanni, ciao Italia, ciao ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Ciao.